Allora, proseguiamo con un altro brano molto bello, molto dolce, Romantic Dream, un altro brano che immaginate chi può avere scritto se non il maestro Fernando Franci. E che brano, eh? Se ne esibiamo così tanti, motivo ci sta. Questo è un lavoro di grande successo del maestro, scritto in un'altra giovanile. Un richiamo al famosissimo Moonlight Sermen, infatti sentirete proprio l'atmosfera del genere e tutto quello, in un'introduzione. Per questo brano sonistico abbiamo un trombonista, che è un'altra delle nostre ricchezze, Gabriele Galliani. A favore. E seguirà questo brano che è questa sera, proprio nella linea delle dediche agli amici, come abbiamo detto all'inizio, che purtroppo ci hanno lasciato, dedichiamo a Marcello De Grandi, simpatico omino dalla barbezza bianca che suonava Passo Tupa, che ci ha lasciato purtroppo, con il quale io ho avuto il piacere di sfruttare. Quindi, Romantic Dream dal trombone di Gabriele Galliani, la banda comunale, il portacomano, il maestro Scassa. Grazie. 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 Gabriele Galliani ha eseguito Romantic Dream.